Oggi prepariamo la pastella per friggere il baccalà. Allora aggiungiamo alla farina il sale, lo zucchero, così da renderla dorata, e l'acqua frizzante gelata. Amalgamiamo bene il tutto, fino a renderla liscia. Possiamo usare anche una forchetta, non è vero che dobbiamo usare una forchetta. Aggiungiamo ancora acqua. Ecco la consistenza giusta della nostra pastella, che adesso andrà in frigo per almeno mezz'ora. Infariniamo il baccalà per bene, lo mettiamo nella pastella. E ora? E ora? E ora? E ora? E ora? E ora? Grazie a tutti. Grazie a tutti.